Il tema dell'antifascismo entra prepotentemente nella campagna elettorale regionale dopo le dichiarazioni di Susanna Ceccardi, candidata presidente per la regione toscana del centrodestra. Non sono né fascista né antifascista, aveva dichiarato la Ceccardi in un'intervista uscita sul quotidiano La Repubblica. Io sono anti-ideologica, aveva detto la candidata o una famiglia di tradizione di sinistra, il fratello di mio nonno, era un partigiano e fu ucciso dai fascisti. Non sono né fascista né antifascista, aveva un senso la domanda allora. Nel 1944, oggi, dice ancora la Ceccardi, è troppo facile dirsi antifascisti con un nemico, che non esiste, sono dalla parte dei temi. Oggi il candidato del centro-sinistra era presente ad Arezzo per le celebrazioni della liberazione della città dall'oppressione nazifascista, queste le sue dichiarazioni. C'è un rigurgito, insomma, di neofascismo nell'Europa, diciamo, in senso generale? Sì, ma soprattutto vi è il senso sempre più diffuso, anche per quello che sono le caratteristiche della comunicazione oggi, e i social purtroppo in questo aiutano, a cancellare la memoria. Cioè, si vive di quello che è l'input e l'emozione del presente, anche nella comunicazione, e porta quindi a classificare come vecchio ciò che invece è la radice di valori che, in ogni vita correttamente intesa, porta attraverso la memoria a ispirarsi per i comportamenti più corretti verso il futuro. È questa cancellazione della memoria che porta poi al negazionismo, a chi va oltre e dice quello che è stato detto non è accaduto. In questo caso il fascismo e il nazismo, che portarono 46 milioni di morti con la Seconda Guerra Mondiale, compreso naturalmente la tragedia della Shoah e della morte semplicemente per motivi di razza o di discriminazione politica di milioni di persone. Che messaggio si sente di dare oggi a tutti quei ragazzi che magari attraverso i social network, perché quello è il loro sistema, riescono a conoscere però una storia che insomma è lunga, più di 70 anni? Una storia lunga che non deve farci abbassare la guardia, la libertà è una conquista, tante persone quel 16 di luglio festeggiarono e di nuovo respirarono la voglia e la possibilità di dire quello che pensavano in un'Italia che stava recuperando la propria libertà, quindi non diamo mai nulla per scontato, la libertà non è solo poter andare fuori, è poter pensare e dire quello che vogliamo nel rispetto degli altri, darla per scontato è già un po' perderla.